Allora, qui si è piazza Zavala, e voilà qua, lì si è Zavala e non si dice che sei un Pays des Verges qua Piazza Zavala dove pensi che sei in un paese di pecorai Non lo so, non lo so, no, deve essere un altro eroe della storia Aspetta, andiamo davanti e vediamo cosa c'è scritto Che di solito c'è scritto qualcosa, no? Questo giurpa evidente pare prende le gens qua tu, eh Ah beh, voilà qua, la se tu si esplica Il fondatore di Montevideo, che non è lei, è lui Il fondatore di Montevideo è lui, è Pael, e è il generale Zavala E da l'autre côté qua, le parecchie delle Verge E da l'autre côté qua ancora Ah beh Anche con le brevie e l'altra con la valli qua, è perfetto Io spazio per tutto sulle troisième côté, io vi posso sapere, il resto non è Dunque da una parte le pecore e qui la mucca non oso andare dall'altro lato, non ci vado Ebbene, io vi semantisco, se vedo l'autre côté Ma siete bene, perché almeno, on sait che Tu sa, c'era delle maree E voilà Le 20 janvier 1724 Tutto bene a fare il giro perché c'è la data di fondazione 20 gennaio 1724 E va, è tutta roba giovane, non è Cioè i tempi in cui noi conquistavamo, i romani conquistavano mezza Europa, questi non esistevano Aller, hop Au temps où le romano venia in france En amenant la roue et le feu Bah ici il n'y avait rien quoi Il n'y avait rien, il y avait une civilisation, un autre